Gigi Riva è stato nominato presidente onorario del Cagliari Calcio ed è finito dallo stesso presidente Tommaso Giulini un grande amico e tifoso del Cagliari. La presidenza di Gigi Riva però non è una novità nella storia del Cagliari. Già nel 1986 la leggenda calcistica diventò presidente grazie a un accordata di cinque imprenditori come Tonino Ruh, Carlo Cogliolo, Vinicio Sarrizzo, Ubaldo Caria e Gianni Simonetti che rilevò la società dopo la gestione di Fausto Moi travolta dai debiti. Gianni Simonetti noto imprenditore locale tra i fautori del salvataggio del Cagliari dal fallimento ha ancora un vivido ricordo di quel periodo. Gianni nel 1986 inizi una nuova avventura rilevando da Fausto Moi il Cagliari Calcio. Cosa ti ha spinto a rilevare una società piena di debiti? Mi ha spinto prima la passione perché io sono stato sempre un grande appassionato del Cagliari, figurati che andavo a vedere le partite già via Pola che avevo 12 anni. Mi ha spinto la passione che ho avuto sempre oltre per il Cagliari Calcio ma per la città di Cagliari. Una cordata di cinque soci con Gigi Riva presidente è stato difficile gestire una società con così tante teste? Diciamo che non è stato facile però fortunatamente fortunatamente abbiamo trovato poi un presidente come Gigi che è stato uno di quelle che ha messo un po' di ordine e siamo andati avanti però purtroppo è dovuto finire perché ci volevano altri soldi che io ero d'accordo dopo ho fatto una riunione fine le due di notte ero d'accordo a loro di mettere ancora 500 milioni a testa mentre invece altri soci alle due di notte si sono rifiutati. e allora dopodiché è dovuto subentrare gli ORRU hanno rilevato la società del Cagliari Calcio come amministratore c'era Cordeddu e ci ha detto ho rinunciato ai vostri quelli che avete messo di soldi nel Cagliari Calcio oppure lo facciamo fallire e io mi sono detto ma come lo facciamo fallire se l'abbiamo salvato tre anni fa lo facciamo fallire adesso e allora abbiamo ci abbiamo pur per il bene del Cagliari Calcio abbiamo rinunciato in 5 a 4 miliardi e 600 milioni nell'85-86. Cosa ricordi di quel periodo? A quali giocatori eri più affezionato e chi era il più scavezzacollo fuori dal campo? Roberto Sorrentino, io ero molto legato a lui come infatti tutti fecimo un bel contratto perché era uno scavezzacollo e poi era anche bravo. Ci racconti qualche aneddoto di quella squadra? Ma diciamo che era un bel gruppo anche, bravi ragazzi, ragazzi che io avevo addirittura avevo una schiera di alloro di villette a stelle di mare 2 dove 3 o 4 di loro gli avevo date le case senza fargli pagare in affitto, senza fargli pagare una lira. Cosa ricordi della città di Cagliari della seconda metà degli anni Ottanta? Diciamo che di quel periodo è stato molto bello perché oltre che si lavorava la grande, si faceva tutta la grande, ero anche stato sempre innamorato della città di Cagliari e della Sardegna. Pensando ai tifosi di oggi, pensi se ha cambiato il tifo locale? Secondo te in curva c'era maggiore rispetto ed educazione ai tuoi tempi? Ma diciamo che non è che sia cambiato tanto, certo oggi la gioventù è cambiata, però il pubblico, il tifoso Sard è stato sempre un tifoso nella norma, un tifoso rispettoso, non ha mai dato segni che danno molti negli altri stati, è stato sempre un tifoso ben educato e ben... Secondo te esiste il razzismo nella curva sarda? Non esiste, non è mai esistito, nelle curve neanche, come infatti negli ultimi episodi non esisteva questo razzismo, le stanno facendo una manone, non ce n'è, specialmente qui a Cagliari. Vai mai allo stadio a vedere il Cagliari? Ogni tanto sì. Nel 1992 Massimo Cellino rileva il Cagliari Calcio, iniziando un percorso che lo porterà a diventare il presidente più longevo della storia del Cagliari. Cosa è stato il Cagliari durante la sua gestione e soprattutto cosa pensi di Cellino come imprenditore? Cellino ne pensò bene come imprenditore e come presidente del Cagliari Calcio che ha fatto molto bene e forse, forse, dopo Gigi Riva è stato uno dei migliori presidenti che ha avuto la storia del Cagliari Calcio. E per quanto riguarda anche le vicissitudini legate ai fatti dello stadio di Serena, secondo te? Anche lì hanno sbagliato un po' tutti, perché la città di Quarta ha avuto una bella opportunità di avere una bella cosa, un bello stadio, dove hanno speso una barca di soldi e con grande rammarica e dispiacere l'hanno distrutta. E oggi se ne stanno pentendo sia l'amministrazione e sia i cittadini quartesi. Nel 2014 subentra la Floor Seed Group, rappresentata da Tommaso Giulini, una gestione che sta facendo sognare i tifosi del Cagliari. Ti piace questo presidente? Sì, mi piace perché oltre che è molto bravo, è anche una persona seria, è una persona che mira più ai fatti che alle chiacchiere. Alla luce della tua esperienza, cosa ti senti di consigliare al presidente Tommaso Giulini? Beh, io non posso consigliare niente perché lui è molto più giovane di me, ha le idee più chiare e le idee più, diciamo, per il mondo di oggi del calcio. Ti posso dire che sta facendo molto bene, ha messo una squadra ben amalgamata e ben gestita. Gigi Riva è il nuovo presidente onorario del Cagliari Calcio. Cosa ne pensi di questa nomina? Cosa ha rappresentato per te Gigi Riva da presidente del tuo Cagliari e come persona? Gigi Riva ha rappresentato tanto quando l'abbiamo nominato presidente del Cagliari Calcio nella nostra gestione. E' stato ancora più bravo, cioè dopo, e mi ha fatto piacere di questa sua nomina perché che è un uomo, e gliel'ho anche detto, è un grande giocatore, è un grande uomo come persona, è una persona eccezionale. Di lui mi ricordo che è una persona competente, una persona seria, una persona che diciamo che ci ha anche ben amalgamati perché tu lo sai non era facile mettere 5 test insieme, a me, mentre invece lui era una persona molto moderata, molto seria, dove ci ha dato anche dei buoni consigli e delle belle cose che lui nella sua vita ha sempre dato. Dal 1986 sono passati 33 anni. Credi che la città di Cagliari ti abbia dato il giusto riconoscimento per aver salvato il Cagliari dal fallimento. Ma no, io non voglio riconoscimento, però questo che si dominano sempre gli altri che nel Cagliari Calcio non so se hanno rimesso dei soldi come li abbiamo rimesse, soldi veri noi, e danno sempre riconoscimento agli altri e noi non ci siamo mai. Cioè, ma non perché, ma anche per dire questi fessi, nell'84-85 quando è stato, ci hanno rimesso una cifra così altra, erano soldi lavorati e non rubati. Il mio rapporto col Cagliari da allora diciamo si è interrotto perché poi subentrò prima gli Orru, i fratelli Orru che anche loro non è che hanno avuto molto riconoscenza per questi altri quattro soci, compreso me e nella loro gestione, sia gli Orru e sia i Cellini, non ci sono mai permessi di mandarci un abbonamento oppure di ricordarci, oppure di dire questi signori che veramente sono stati salvatori dal fallimento del Cagliari Calcio, gli diamo una riconoscenza. Noi non vogliamo riconoscenza, però diciamo che per dire in tutta l'Italia, e questo me ha detto un presidente di una squadra di calcio di Serie A, in tutta l'Italia, anche quando mettono 10 milioni, mettevano nella società, gli davano la testa di tribuna d'onore a vita, mentre invece a noi non ci hanno dato neanche una testa di curva. Questa è la riconoscenza di questi signori presidenti che ci sono subentrati. Il 2019-2020 sarà l'anno del centenario del Cagliari, cosa augura Gianni Simonetti al Cagliari? Al Club Rosso Blu gli auguro, lo scudetto, non dico perché sarebbe una cosa, però di andare in Europa glielo auguro perché lo merita, perché c'è un bravo presidente, un presidente serio e un presidente dove ci può portare ad alte risultati.